Caffè lungo. Grazie signora. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Il giornale non ce l'ho. No. E il cesso? E il cesso sì. Grazie a tutti. Grazie. Bravo. Aspetta che recupero eh. Col jerk mio. Col jerk mio ombre. Col jerk mio. Tiralo su. Tiralo su quello lì. Che piccolo. Vai tiralo su. Ce la fai. Ce la fai con due mani. Mano sopra. Vai tiralo su. Mi viene. Bene. C'hai la pizza o che? Sì però ce l'ho di dare. Eh. Come? Riesci a fare qualcosa o che? Stai a paura di riportarmi qualcosa io. Signor fermo. Vai a prendere la pizza. Vai vai a prendere. Io sono la caninaco. Vai a prendere la pizza. Passa di qua. Mettigli un piedino sopra. Non troppo. Pestalo un attimo. Pestalo. Tienilo fermo eh. Così lo liberiamo subito. Piano piano lo liberiamo subito. Fuori uno. Tienilo lì un attimo. Paolo vedere qua. Paolo vedere. Sì. Paolo. Vai. La matria via. Stava volando. Alla posta. Dai. Ci siamo. È il primo andato. Che c'ho giù la esca io. Mi sa la bibiglio. Grosso? Grosso. Bravo bravo. Di che è grosso questo eh. Tienilo. Tienilo. Piano piano. Cazzo ho usato un recupero diverso. Inizia a recuperare linearmente. Palla meta. Palla meta. Palla meta. Tio. Ma l'hai preso dove? Superficio o che? Superficio assoluto. Vai. Vai. Con caldo. Con caldo. Piano piano. Fallo stancare. Occhio alle pietre. Non so se sembra la qualità perché non mi... Arrivano gli schizzi qua no? No no. Ma qua sotto lo stai. Oh mi raccomandino. Fallo stancare un attimino lì che... Andiamo a tirano di brutto questi pesci. Bra. Bra. Con caldo. Siamo qua a posto. Ok. Siamo qua a posto. Ok. È il polpo. È il polpo. Non lo so. Non lo so. Piano piano. Attento. Portalo di qua. Portati dalla parte di qua. Io mi metto. Mi raccomando con la pietra lì. È lì che sta andando. Pompalo un po'. Pompalo un po'. Mettiti la cane qua. Pompalo un attimo. Eh ma se la metto qui. Bravo. Così. Piano piano. Occhio alla risacca eh. Allora che bello. Non lo vedo. Cos'è un barra? Ok. È lungo. È lungo. È lungo mi sa. Anderlo là. Anderlo là. Palamita o un serra. Palamita o un serra? Barrone o barrone o barrone o barrone? Piano eh. Vieni piano piano. Dai. Faccio il tiro. Aspetta che non vedo il gancio. Non vedo? non vedo il gancio se è dalla parte giusta o che? fatto cioè 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 e allora grande e allora rica bello è due chili e mezzo quasi tre forse di che fetta bello bello bel barra due e mezzo li fa ok perfetto attento attento vai tanto pinza prendi la pinza è l'agganciato appena appena vero eh lo so no ti muovi aspetta che lo facciamo girare giralo giro il pesce fermo lì dai staccalo fuori hai aperto l'alcoretto pure l'alcoretto del cazzo visto apposta c'è fatto dopo facciamo le foto e tutto però cazzo sta trencia sulla scoglio controllati bene il fluorocarbono si è ammaccato dai è flotta in questa no? sì sì no beh sta sì ma c'è una bella va bene giù questo dovremmo esserci sta comunque sui due metri controllo fluorocarbono se non hai i denti l'ha insegnato allora dai via lanciare torcia torcia in testa torcia in testa e via eccolo qua filippo con suo barrone al buio bello 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 davvero cazzo grande GERC con? GERC 200 con GERC 200 si 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 floating e viaggio recupero lineare grande spettacolo bello 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 ah 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 che c'è oh oh hey no 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 oh Palamita? Oh Ce l'hai Raffi? Io non so che si usa il Raffi Palamita, Palamita O Serra, Palamita Mettete qua Fai giù bene con la punta? Sì, dovete avvicinare l'occhio Occhio, eh Non lo vedo, eh Vieni, vieni Non lo vedo, eh Vieni, vieni No, 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 no Eh, ora Giù, 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 bene con la punta Giù, bene che ce la fai E' con la vita Ok, vamos Vete Bella, eh Cazzo, è grosso, figa Bella, grossa, eh Col bene, hai visto? Recuperato dritto per dritto a manette Ho recuperato dritto per dritto a manette Grande, Paolino Bolle, a galla Oh, medio, medio La prima era bomba Bella, eh Sui 4 fili la fa, eh No, meno, meno Sono messi Meno, meno, meno Ma che è grossa, eh È grossa Meno, è una bella volta Anche che Paolo ne metto via lo stai Sì, sì, non lo vieni Eh, bella bestia Ecco qua Palamita Palamita con ArtPay A 103 GS Spettacolo, bello Bello, bello Vieni qua E allora, buongiorno Ecco qua, Filippo Direttamente da Milano Da zona Liguarda Liguarda Stamattina ho portato lo scoglierone Bucato subito al buio Un bel barrone Come avete visto prima dalle immagini Bello, bello davvero Con Gic Poi hai perso una guglia Sì, sì, sì Un altro inseguimento fino a sotto Un altro inseguimento fino a sotto Sino a sotto Diciamo che al momento L'inizio è stato Non è stato male Ho partito un paio di mangianze in fondo Ho partito un paio di mangiate in fondo Non si è riuscita ad andare Troppo lontano E adesso niente Adesso si va avanti A gig Vediamo un po' se c'è qualcos'altro Ah, ovviamente è uscita anche la palamita E un'altra guglia Insomma Mattinato con l'attività Diciamo Sì, sì, sì Speriamo che esca La sierra Lui cercando la palamita L'obiettivo è quello Lo soffrendo abbastanza Però Ci sta L'inizio è stato buono Diciamo Ci ha raggiunto anche Don Manuel Rasta Sta cercando anche un peci di fondo Vedere se esce qualche palamita Qualche dentice Ci stiamo provando Spot Ovviamente importante 40 metri di fondo Ci fa anche una bella camminata Però Dei avalzare la pena Dei avalzare la pena Andiamo avanti a pescare Dai ragazzi Dai vediamo un po' se esce qualcos'altro Cambiamo peche Aguglia Anche le aguglie ci sono Anche le aguglie ci sono Buola Buola Fulci Fulci Questa la riberiamo subito Eh vai Aspetta Aspetta Tirava anche quella Eh partito subito al volo Dai Un po' se è fermato Che riesci a liberarla Una guglia Una guglia grossa Una guglia grossa Ce la fai? Sì E via Lento e piano Sì Barra Ma ho acceso la luce Sì Ma è buono lanciare Sì sì Fino Prova un po' dappertutto Dritto A sinistra L'ha dato? Eccolo Tu sei slammato Tu sei slammato Non lo so Slammato subito Vacca bestia Probabile che è un altro aguglio Per slammarsi così Eh beh Il barra va già di merda Eh Siamo qui Sì 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 Il pulpo questo È una bolsa È un pulpo È un pulpo di merda È staccato Sì 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 bello è questo è bello questo è bello secco questa questo questo era bello nera questa non era taburile no questo secco dietro così non è taburile questo è bello questo si questo è grosso eccolo qua regalino dal fondo oh guys aguglia di manuel c'è la pizza qua a mano questo è fuori ok tiene la ferma sul corpo castaker dis con castaker dis ostia via rilascio della goglia di manuel rilascio della goglia di manuel bello bello questo questo è bello bello ombre bravo cos'è questo è bello e saragone ok sa ma tira 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 pompalo pompalo bene pompalo bene coderti io sei incannato lascialo andare lascia uscire e era bello è vero c'era bello sì no tagliato bastardo No, 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 no. Niente Sono figli di puttana appena trovano lo scoglio si buttano sotto Non c'è cosa da fare No, ho sbagliato qualcosa Si è fermato un attimo No, no, non mi sono fermato per niente Ho fatto un po' di dubbi, sai cosa ho sbagliato? Quando l'ho lasciato andare Dovevo aspettare ancora un attimo Perché era ancora troppo attaccato Appena ho fatto così Si è infilato sotto Mi viene da tremar Ma guardate Ti ha tagliato Mi viene da tremaro 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 stessa l'amato stessa l'amato, l'hai visto? l'amato allora ragazzi eccolo qua Filippo oggi è riuscito a bucare adesso sono entrati all'ultimo momento avevamo già chiuso tutto questi qua mi hanno fatto diventare male stavamo rischiando di prendere i serra è entrato un banchettino di serra non grossissimi comunque è già buona taglia un paio di seguimenti su Black Min un banchettino a Manuel a Guglia all'ultimo momento qualcuno incannata poi persa io ho già chiuso tutto stanchezza e ragazzi adesso andiamo a casa comunque è stata divertente ci rilassiamo che domani è un altro dia domani è un altro giorno di battuta, di pesca, manetta speriamo nella palamita domani vuoi la palamita e la palamita abbiamo Filippo vuoi la palamita e la palamita sarà di solito si dice così ragazzi è una bella mattinata all'inizio veramente tante attività ci siamo divertiti poi dopo calma piatta adesso ultimamente c'erano delle navi che stavano facendo esercitazione addirittura bombardamenti assurdo a mare aperto stavano bombardando stavano in esercitazione due navi spagnole che stavano sparando proprio delle cannonate assurde canaria in guerra e nulla dai ragazzi bello dai che non è ancora finita contento però già bucato una guglia la slamata a parte la luna che ci ha reso le giornate un po' storte in questi giorni domani è un'altra mattinata dai ragazzi li salutiamo e al bocca al lupo ciao ragazzi ciao ciao